Parliamo con uno degli addetti ai lavori che vive a contatto con questi strumenti altamente tecnologici. Quali sono questi compagni di viaggio, qual è il loro nome e le loro specifiche tecniche? Abbiamo nello specifico tre apparecchiature, tre veicoli. Uno è l'USS, il gommone che guidiamo con questa console che abbiamo qua davanti. È un gommone totalmente autonomo che ci permette di effettuare delle investigazioni, delle mappature, dei fondali attraverso l'impiego di tre tipologie di sonar diversi. Un sonar a scafo, un sonar rimorchiato e un sub-bottom profiler che ha la capacità di vedere anche sotto lo strato di sabbia o lo strato di fango. Un ulteriore veicolo che abbiamo in dotazione è il Remus 100. È un'apparecchiatura che è completamente autonoma. Preimpostiamo una missione, mettiamo il veicolo in acqua e questo veicolo esegue la propria missione, furiesce dall'acqua e scarichiamo i dati. La particolarità di questo veicolo è che oltre a raccogliere dati sonar ha la possibilità di raccogliere dei dati ambientali, temperatura, salinità, ossigeno disciolto nell'acqua, che possono essere utilizzati per successive analisi in modo tale da ottenere indicazioni sullo stato di salute delle acque. In quanto tempo si riesce a scandagliare un'area? Dunque, possiamo scandagliare delle aree grandi, anche mille metri per mille metri, la velocità delle apparecchiature è intorno alle nove ore. Questa fase pratica ha visto una fase di formazione. Da chi siete stati formati quanto è durato questo periodo? All'inizio del progetto tutti i tecnici che fanno parte della cellula PAX hanno svolto dei corsi di formazione sulle varie apparecchiature. Circa quattro mesi di attività intensa sulle apparecchiature perché per qualcuno erano delle apparecchiature totalmente nuove. Nello specifico il gommone, l'USS, con questa console è un'apparecchiatura di cui ce ne sono due unici esemplari in Italia, uno presso il Nucleus Dei di Augusta e uno presso il Nucleus Dei di Taranto, quindi sono unici, nessuno ci aveva messo mai mani. Personale coinvolto? Personale coinvolto, i palombari della Marina Militare, del Nucleus Dei di Augusta e personale tecnico che è stato prescelto da personale specializzato dalla Marina Militare. Sei unità di queste persone, sono dei tecnici elettronici, tecnici radaristi, tecnici dei sonar, un nocchiere e un motorista. Grazie a tutti.